Addirittura Joachim si sta scervellando sull'orario, cioè lui sta cercando l'orario esatto più o meno quando la giunta direttiva ha firmato, perché secondo lui ci sono anche simili orari. Io penso che Joachim è sensazionale, perché io penso che ha fatto la notte all'OAB e allo stadio perché usciva Giordi e lo voleva far socio, però era lì fuori dall'OAB e tutto si scalpitava e lui non ce l'abbiamo fatta perché non è parente e quindi da quest'anno è cambiata la regola purtroppo. Sì, non ce l'abbiamo fatta, però era lì c'è rimasto malissimo, ha detto a te fingiti bis psio, bis nipoti, bis qualcosa, l'hanno fatto passare da bischero, però non c'è stato. Ecco vedi, non la sapevamo sta cosa e pensavamo che si potesse fare, invece da quest'anno solamente il parente stretto può essere. Sì, o comunque sia un babbo, comunque sia un cellino, ma basta che sia insomma un legame. Mi diceva Joachim, mi ha chiesto l'ora del bambino e gli diceva che era le 18.50, quindi penso che stia indagando per questo e me l'ha chiesto. Sì, sì, sicuramente. Va bene. Perché se fosse anche alla città alle 18.50 non è più un segno del destino. No, no, no. Infatti c'è qualcosa, poi gli daremo la tessera onoraria al piccolo giorno. Esattamente, come no? Lo faremo. Il meno che si merita. Ma sì, sicuramente. Senti Simo, noi ti lasciamo con tua moglie, con il bambino e con l'altra tua figlia. Ti ringraziamo, come se ti mandiamo un grandissimo abbraccio e ancora tanti auguri. Grazie di cuore, grazie a tutti. Un bacione e buona serata. Auguroni. Ciao Simo. Ciao Simo. Grazie. Ciao Simo, auguroni. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bene Vittor, insomma abbiamo anche fatto gli auguri a Simo che era il minimo. E sei rimasto soddisfatto dalle risposte di Tony prima? Sì, è sempre molto in gamba e da adesso sei presidente, un motivo ci sarà. E personalmente sono molto contento perché vorrei che finalmente, come c'è scritto nella chat, si farà questa grada giove che se ne parla più o meno da 22 anni e non si è mai fatta. Quindi finalmente c'è un progetto embrionale. Di solito all'ultimo momento succede sempre qualcosa e non se ne fa più nulla, ma se Dio vuole, come diceva Tony, entro l'inizio del prossimo campionato dovremmo iniziare a portare avanti questo progetto. Senti, ma io infatti stavo, le cose che poi tu hai scritto, i mille posti, infatti l'avoletti e poi questa cosa che lui stava dicendo, io l'avoletto che praticamente più o meno ci sia all'ok delle forze dell'ordine locale. Sì, ha detto che si stavano a lavorare in questo senso. Diciamo che quello che ho letto io sul periodico di Catalunia è abbastanza restrittivo, cioè chiedono delle cose che sono abbastanza… Sì, è molto controllato, vediamo se si farà insomma. Però insomma è già un primo passo. Pronto? Oh ecco, è arrivato anche Alessandro. Ciao Ale. Ciao Ale. Ma vabbè, tu dici quello che è restrittiva. Allora, penso che sia quella la maniera che i Mossos di squadra, la Polizia Caternana ti dia l'ok. Sì, no, però è vero. Di questo sì, certo. Se no, non te lo darebbe. No, la preoccupazione che ho io da italiano è quella che… però sai, non conosco poi queste cose direttamente in Catalunia. Chi è il leone? Esatto. Non c'è il leone, chissà dove, è qui a Radio Roma Futura. Beh, ho capito. Allora, no, dicevo, magari c'è qualche pregiudizio, qualche interferenza che poi va a colpire, insomma, cercare di interrompere il prima possibile questa cosa, non lo so, a Roma l'abbiamo vista. Non lo vedo in quel senso. Soprattutto per evitare problemi che ci sono stati in passato, che ci può stare, infatti ci sono altri gruppi giovani che sono nati 4, 5, 6 anni fa, questi sono tutti dentro e quelli precedenti invece sono escludi e cambieranno anche la curva, adesso il tipo in teoria è nel gol sud, quindi ci sarà di nuovo uno spostamento al gol nord, mille posti e vediamo come va, insomma. Chissà se Joachim è d'accordo che li levano da sotto e Francesca Colombri invece se li trova sotto, vabbè poi glielo chiederemo. Senti Ale, invece, non so se hai sentito le parole di Tony, volevo chiederti se... no, non l'hai sentito, io gli ho chiesto questa cosa dei tre anni e lui ha confermato appunto i tre anni da pegnista, puoi chiedere diventare socio, tre anni da pegnista, ne puoi fare pure tre, in tre pegne differenti. Sì, sì. Rimani della tua idea, sei convinto che è una cosa che può andare avanti, come si metteranno con coloro come il nostro amico Riccardo Dallò o Andrea Fabiani che hanno passato i tre anni invece da compromiso? Ma non ho capito la domanda. No, la domanda era che io ho chiesto, no, la colpa è di Sergio, perché tu gli hai detto come si metteranno, cosa diranno? Ho letto la mail alcune settimane fa di questa cosa e è stata fatta la scelta di chiudere la la possibilità di associarsi direttamente ma di far passare i tre anni e adesso c'è questa piccola sconciatoia, va bene così, insomma. Sì, va bene perché il presidente Tony Freire sottolineava quello che una persona che è stato tre anni come pegnista, può diventare socio, sì, sì, sì. No, 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 sottolineava in questo senso che è la tesera di compromesso nella quale tu dimostri la fedeltà al club e se stai come pegnista hai dimostrato anche la fedeltà al club. Noi abbiamo commentato questa cosa un mesetto fa con Sergio e Andrea, Sergio ti ricordi? Certo, io ero piuttosto scettico sulla questione, ti ricordi? Esatto, 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 io infatti mi sono confuso che l'avamo discusso con Alessandro, invece noi eravamo discusso con Alessandro, ecco perché l'ho chiesto di Andrea, perché c'era Andrea con noi collegato e giustamente Andrea poneva la questione, dice ma io che sono stato, mi sto facendo tre anni pagando, posso usare un termine tanto solo, 23-24, tipicamente romano, Alberto dice no ma io lo faccio, a buffo, tre anni a buffo. E no perché? Vabbè, vabbè dai, in più uno come Andrea o come Riccardo iscritto pure alla Pegna, tanto male che mi facevo tre anni alla Pegna, pagavamo pure di meno, giusto oppure, vabbè, però sono formule nuove nel senso che, esatto. Ale con questo commento sei veramente un italiano, una fregatura e chiamarlo a formula nuova, una fregatura e basta, se uno ha pagato 160 euro per tre anni poi passa un altro che ne paga 10 euro. No, 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 stavo dicendo, è una formula nuova quella della tessera del compromissario, se non sbaglio, non mi risulta che prima di averla messa 4-5 anni fa, adesso non ricordo, forse mai esistita questa formula di adesione, quindi forse se c'è qualcosa da discutere è proprio l'adesione compromissaria più che la possibilità successiva della fedeltà penista, come penista che è più immediata, poi dopo di che io capisco perfettamente la criticità che poneva Andrea Fabiani e secondo me si potrebbe risolvere ad esempio con il fatto che diventi socio e immediatamente puoi accedere ad alcuni biglietti delle finali, anziché chi entra come peni invece diventa socio ma deve aspettare tre anni per avere i biglietti, perché a quanto ho capito, chi è socio compromissario ha tre anni, diventa socio, poi deve aspettare tre anni e può accedere alle finali. La diversificazione potrebbe essere questa, so che è un pagliativo però sarebbe un modo vero per coltivare uno scarto rispetto alla beffa di aver pagato 10, 12, 15 volte in più di quanto può essere adesione a una penna. Vabbè però questa è una normativa fatta per impulsare le penne, per dare impulso alle penne, per promuovere le penne. La cosa che però secondo me è importante sarebbe fare una specie, usiamo un termine tipicamente italiano, una sanatoria, cioè tipicamente italiano esattamente. Andrea è stato un mese, 15 giorni fa è stato a Barcellona a pagare la quota, gliene manca ancora una. Secondo me, visto che è anche pegnista, il club dovrebbe andare a prendere, oppure con autocertificazione portando quello che richiede, richiede appunto, con la conferma che sei stato pegnista per 3 anni e lo fa socio direttamente. Se potrebbe parlare in quel senso. Quello che voglio dire è che lo scarto lo produci tra la differenza di centinaia di euro dell'essere compromissario all'essere socio di Peña, dando anche, oltre a questa cosa qui, cioè della possibilità di essere immediatamente socio effettivo, di avere anche alcuni vantaggi, ad esempio, ripeto quello della possibilità di avere certi biglietti di Champions, certi biglietti delle finali. Dopodiché tu mi dici, tu puoi avere lo stesso i biglietti di Champions e delle finali pur non essendo socio del Barça, perché questa è la situazione, questo che comunque anche dentro il movimento dei soci si discute come una contraddizione, perché io sono un socio di una Peña, non sono socio del Barça, che ne so, alla finale di Mosca dell'anno prossimo dove si giocherà c'è il sorteggio tra i soci della Peña e vince il sorteggio uno che magari non è nemmeno socio del Barça. Questo avviene, ad esempio, se non sbaglio veniva nella Peña di Francesco Lombri, che è stato uno delle ragioni dei vari scatti. Ma siamo in diretta? Certamente, ma scusa, io credo che… Diciamo che è difficile che qualora che ci ascoltano al di là del Mediterraneo hanno capito il senso della politica. Ma io credo che nel congresso del 10 agosto si parlerà di questi temi, evidentemente. È sempre complicato, perché nascono Peña nuove, i giorni sono limitati, il tempo di organizzazione, il congresso è limitato, perché comunque ad oggi uno che abita in Asia o nel Sud America, dove c'è una buona delegazione di solito ai congressi mondiali delle Peña del Sud America, insomma si deve organizzare, che inizialmente la rappresentanza è quella dei presidenti o di chi economicamente ha la possibilità di venire. Si perde o si investe una giornata nel conoscersi e nell'incontrarsi, una seconda giornata a discutere delle regole generiche che l'organismo internazionale delle Peña propone e immediatamente nel secondo pomeriggio si vota e il terzo giorno è il giorno della festa, il terzo è il giorno del Gumpter di solito, quindi è difficile uscire con una proposta esecutiva. No, no, una proposta, basta che si lanci l'idea, l'idea su quello poi… Però credo che ci siano anche livelli intermedi, anche più snelli del congresso in generale, no, che possono ratificare e inserire delle clausole come questa o altre, no? Sì, vabbè, ma io penso che lanciare l'idea, è importante che poi il comitato direttivo, con la federazione lo parli, vabbè… Siccome io ho fatto la domanda giustamente a Toni e Toni mi ha dato una risposta e con Sergio un mese fa, con Andrea presente, abbiamo discusso questa cosa e Andrea portava il suo esempio giustamente, no? Un fatto concreto che… Sì, 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 evidentemente. Ragazzi, Toni ha detto che ci sarà solamente… mi sembra di aver capito, correggimi se sbaglio, Alberto, che è il 10 e credo sia solamente un giorno. Un giorno, esattamente. Ah, solo un giorno. Un giorno, mercoledì 10 agosto. Certo, per chiudere diciamo quello che volevo dire, sì, hai ragione Max nel dire che poi ci sono anche organismi intermedi, continentali, sappiamo che in Europa comunque c'è…